La crisi della politica è un uragano che si è abbattuto su tutta l'Europa, ma dove sono forti le istituzioni lo Stato non ne paga delle grandi conseguenze. E' per questo che all'Italia serve rafforzare le proprie istituzioni. E se dal dibattito in Senato uscirà l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'Italia sarà più forte in Europa. Grazie a tutti.